Ciao Ivan, sono Maria Vittoria, volevo augurarti un buon 27esimo compleanno e vorrei anche aggiungere che credo che questo è sicuramente l'inizio del tuo successo perché stai conquistando veramente tutti e siamo molto straordinari e credo che se tu non hai visto il cantante questa vita adesso sarebbe spenta e noiosa, quindi veramente grazie e buon conflitto. Grazie a tutti Grazie a tutti